Buongiorno a tutti, questo forum oggi vede diversi paesi del Mediterraneo incontrarsi per parlare dei compiti di guardia costiera a favore delle comunità costiere, di questo mare importantissimo che si trova tra i vari oceani che quindi unisce l'est con l'ovest e il nord con il sud. Qui parleremo di sicurezza della revigazione, sicurezza marittima, soccorso, tutela ambientale, tutela delle risorse ittiche e soprattutto monitoraggio del traffico, questo è un momento importante, particolare, questa è la nona edizione che è partita con noi nel 2009 a Genova e oggi continuerà, continuerà con molti paesi intenzionati a portare avanti questo progetto che riteniamo fondamentale per tutte le sponde europee, asiati e africane del Mediterraneo. Grazie